buonasera a tutti sono luigi onarà questa profita e bentornati su ballos gate 3 allora quello scuro il jaira team e forse non è il massimo allora mentre parlavo con quello scuro mi ha fatto presente che per la sua cavolo di quest abbiamo ancora un po di roba da fare il fatto la scusa cosa cagnolino ma nulla allora e abbiamo fatto un po di cose non 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 no Eh sì, perché al ponte del dragone c'è scritto, mi mettono un attimo in dieci. No, 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 no. Sì 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 Ok 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 No, no, no. ok cosa c'è di sopra ma è una casa è una casa da mettere un po' a posto ma direi che ottima per non avere una casa una casa simile di sicuro è un vantaggio non da poco un po' d'oro un buon amuleto per carità quella che ce ne può tenere uno solo da amuleto quindi difficile che scelga un amuleto così prontato magari a difficoltà più alte con un cambio proprio di setup ogni volta dove porto questo puttello? eh no eh no Ah beh 5% di fallire Sì 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 Non per usare comunali. ma quindi mi stai a dire che per la casa dei contabili in giro posso trovare le chiavi mi pare ci sia nulla di particolare no però ho ottenuto le chiavi ho ottenuto la chiave che vale più di qualsiasi cosa la chiave 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 una nuova di ricerca oh sì, la formulae ACU a través del Fruag era spettacolosa quando hai entrato prima in questa casa hai visto il rischio un pochino che ha fatto esplodere sembra un po' drastico non è nulla 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 oh meravigliosa e cosa sta? excuse me, where do you think you're going? you'll need to take the potion here please explosive this could make feeling complicated oh oh my this is incredible i'm seeing stars you, my friend you are the world's first detonative exsanguinator all it needs is a spark i assure you ok now let me offer you a little treat in exchange i'll only ask a nominal fee in exchange you really are a fine collaborator malizia malizia muco da della commozione pochino no, 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 no no, 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 no no, no, no until next time no, no no, no no no, no 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 ah my friend if you've any more blood to ah my friend certainly until next time I'll just help myself no I don't want to throw away from you I'm good, I'm good, I'm good I'm good I'm good Grazie a tutti Così almeno rompe la scatola. Laboratorio del sangue. C'è un parassito. C'è uno spectator. C'è un parassito. E' riuscito a uccidere uno spectator? Quanto cavolo è forte quella tizia? Come faceva? C'è un parassito. 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 Una cosa che ho capito che non abbiamo fatto è che in ognuna di queste case si può entrare. Quindi per cui se in ognuna di queste case posso entrare vuol dire che ci devono essere cose in ognuna di esse. C'è un parassito. 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 Oh. Oh. Ok. Abbiamo trovato anche un'altra gamba di pagliaccio, tra l'altro. Ok. Questa è l'armeria. Eh, no. Ma addirittura due. Ma dai. Ma dai. Cos'hai di bello? Oh. Oh. Ok. Molto standard. Questa è la cazza forte. Questa è la cazza forte. Ci sta. Vedrà che in questo episodio andremo là. Questa è la cazza forte. Questa è la cazza forte. Questa è la cazza forte. dei problemi quindi per te nord-est più questo qua ok eccola con questa casa qua casa di Ambrust infatti penso che sia l'unica casa davvero non avrà senso che entrasse va bene allora da qua adesso andiamo a sud verso Frank e e e e e e e e e so they can act I'll never understand I'm warning you there's one of you and four of us that might be worth a look why yes Edvard can I call you Edvard well Edvard so nice to call us a broken steel watcher a tag wired to it reads unit defective return to the steel watch foundry at the west docks so what can we do about it what are the lies that you're not a lot unless you want to set fire to the bird or the man's gazette headquarters oh for a skeleton king no one back home will ever believe this hello well amn una casa molto molesta ah ok ce l'ho già stato qua va bene come a scendere oi messi con noi ok 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 Sono un idiota, per questo ho buttato via un grimaldello. borsa di oberon! nello della gilda! va bene! 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 tutto ha colpito in mezzo, vero? Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni 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 No, guarda che distanza Vieni 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 dove 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 il caos lo so di spore Grazie. 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 Zombie. Grazie. Facciamo zombie. Va bene. Non capito dove venga quello zombie ma va benissimo. Comunque. Oh, dear. Someone's left a trap up for us. Ok. 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 Be careful. There are traps about. No one's stopped me yet. Ok. There's no time to waste. Ok. 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 Mano magica non l'abbiamo però. This ought to be good. Ok. 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 non avevo un'equipe che mi permette di lanciare mano magica sembra davvero un'equipe che mi permette di lanciare mano magica un anello era esatto non per usare comunale 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 Siamo avanti. ok ok eccoci ok ok mi sa che però questo episodio sarà molto di passaggio perché stiamo finendo di esplorare la città e mi sa che finiremmo di esplorare la città in questo episodio sinceramente che cosa non sono diventato un po' di neera Grazie a tutti 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 What now? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Che cavolo Oh, sì 1-2 la cd e i trick per colpire Enorme lo voglio Oh, no... Oh? ...fele free to return. Non...touch me. Let's crack it open. Let's crack it open. Okay. Time! Okay. Time! Capitol Capitol. ...stories with, uh, teeth! Peace, sir. Oh, please! I-I told you already! This spot's mystic. Oh, no. You don't have to help him. He's the one you should be on. You've met him! He-he murdered me! Murdered my monsters! Fit for...gutting. There used to be five of us. My friend Talis, he... Couldn't take it anymore. We thought he had done it. Freed us all. We ran to help. But he just... Exploded. We'd have to stop him resurrecting. Since Talis died... I've been watching Carrion. Trying to figure out... After Talis died... ...Carrion blindfolded me... ...and he was blindsided. He was blindsided. He was blindsided. He was blindsided. I'm not stupid. I know what he did to my friend. God's... How I'd love to smash that bastard jar. Oh. That's how you kill mommy, Luke. What? It's... That's slimy. Please. Okay. Watch your elders and learn. Never a dull moment. Never a dull moment. He was blindsided. Hit him. It's a single moment. It has to do. It's really a bit of a small view. He's blindsided. He's blindsided. The end of his hand. It's a big challenge on him. He's blindsided. It's like. He's blindsided. How a all the helpers are blindsided. He's blindsided. It's like, we're blindsided. Sì, non abbiamo tempo. E gli altri pezzi dove erano? 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 E gli altri pezzi. Grazie. 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 Oh no. Grazie. 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 Ok Ok Heeey Heeey Can't give up now I like a party Can we Bumbo? Of course That helped I suppose Carrion Does come back then What then? Bastone dell'allegra nacromancia Quel bellissimo Allora Questo può andare all'allamento Questo può andare all'accampamento Questo può andare all'accampamento Questo può andare da Gale Questo può andare all'accampamento Molto Selezionizzare i monumenti Questo invece è Esecutore Sì Me lo tengo Ehm No Ehm Quello che mi ha dato Ehm 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 grande con guida ho fatto due volte di fila due signore 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. Ok. No, 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 no. Ok. No, no. 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 No. No, 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 no. c'è qualcuno? questa è un po' complessa come l'ho strutturata perché non sono bloccati là quindi lì A impazzirà adesso i maghi mi fanno il culo me lo fanno male maniera proprio cattiva me lo fanno mi fanno lanciare ok 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 No, 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 no. No, 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 no. Ce ne sono due milioni di nemici, ma non è quel problema. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Grazie a tutti Grazie a tutti Time to move Grazie a tutti 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 ok 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 ecco il cazzo non so se capite un attimo come è andata la situazione qua eh ok ma che cazzo perché un un unica domanda perché tutto questo non 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 ma non 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 sa di fatto che finiscono come biridi Adesso Questa mi preoccupa solo Per il suo cuore ferite di massa Ricarica di 23 atti quanti Mi pare giusto il mio Ricarica di 2 in croce Ma vaffa quel paese Qua manca capito cosa fare No, non ha capito forse Molto forse Non ha capito Ha capito tutto Ha capito tutto I'm ready And there's something I'm ready And there's something Ah 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 Grazie. E' una cosa che avete voluto voi, non io. Io stavo facendo tutta la roba che avevo vinto in questa nata fight, voi vi siete venuti qua a romper le scatole. Non incolpatemi di qualcosa che non c'è. Ocfather, e'se my way. Oh. 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 Ok No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ok. Ok. Te l'hai cercato a sto giro? Bene. Ciao. No signora. Noi rimane una sola. Noi rimane una sola. Noi rimane una sola. e non era previsto durasse così tanto questa questa fa questo episodio stato insieme di pantomime praticamente reggamenta Grazie. Oh perché c'era anche quelli là. Era la fine. Era la fine ragazzi. Ma era la fine e va a mangiare imbarazzanti. È stato un parto quei tutti fanno intervenuti. C'è stata una fight pesante. Parecchio pesante. C'è stato un po' di più. 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 Ok. 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 Ok ragazzi Ok Però ancora da visitare delle parti Questo episodio è stato Il susseguirsi di roba Vedrai che ti cura di tua pestilenza Tu hai la mia parola Vedremo il prossimo dove ci porta Alla prossima